Musica Ci troviamo in comune di San Pietro di Cadore dove oggi incontriamo il sindaco Manuel Casanova. Consigliere, sindaco, grazie per averci ospitato. Grazie a voi di esserci venuti a trovare sul territorio, che fa sempre piacere. Quindi abbiamo l'occasione di far vedere un po' il nostro territorio. Noi di Telebelluno stiamo cercando di andare a trovare i sindaci nel territorio. È sempre un piacere girare questa splendida provincia. Partiamo subito con qualche domanda. L'argomento che più sta monopolizzando l'informazione in questi mesi, in questo anno e mezzo, è la pandemia. L'estate è terminata. Com'è andata qui a San Pietro di Cadore e com'è al momento la situazione attuale? Diciamo che da un punto di vista turistico l'afflusso è stato buono. La ricezione sul territorio è stata buona. Qualche problemino ci ha causato un po' il discorso del cambio in corsa durante l'estate, del discorso dell'accesso con il famoso Green Pass nelle attività ricettive. Ma vedo che comunque anche i clienti, comunque gli avventori delle strutture hanno capito un po' che la situazione, qual è la situazione e quindi si sono adeguati senza grossi problemi. Ripeto, appunto da quanto percepito il gradimento è stato buono e l'afflusso è stato buono sul territorio. Questione un po' delicata, quella dei vaccini a San Pietro, qui come la si sta vivendo? Allora, tramite ULS stanno organizzando a cadenza regolare degli accessi al palazzetto dello sport di Santo Stefano di Cadore, delle sedute vaccinali, dove c'è un afflusso abbastanza frequente. Non siamo proprio nelle medie provinciali, ma confido nel fatto che la nostra percentuale sia in aumento, anche perché così in questa maniera riusciremo a avere anche una gestione un po' più snella degli accessi agli uffici pubblici e comunque gli accessi alle attività e il trasferimento delle persone sia un po' più snello, insomma, avendo la certificazione verde. Perché secondo lei in questo territorio c'è un po' di recalcitranza, per così dire, a assumere questo vaccino che a quanto pare sta aiutando, se non la sta sistemando proprio del tutto, a combattere questa pandemia? Io sinceramente non so se sia una recalcitranza come dice lei, ma vedo che comunque forse perché non c'è la necessità oggettiva di avere l'accesso da parte di tanti cittadini alcune zone, quindi forse non essendo, come dire, una necessità, non viene percepito come... perché il vaccino, da quanto capito, è necessario per la persona che lo assume. Ovviamente anche per la collettività, per riuscire a arginare la diffusione del virus, o perlomeno che sia in maniera, che abbia conseguenze meno aggressive come abbiamo avuto l'anno scorso, tant'è vero che quest'anno non so se perché siamo in fase discendente della pandemia e non è mio compito e non sono la persona giusta per poterlo giudicare, comunque vedo che dai dati che ci passa a ULS abbiamo molti, molti meno casi, anzi, viaggiamo sul discorso del caso 2, dove l'anno scorso avevamo decine di persone in quarantena o comunque positive, avevamo anche delle persone comunque in ospedale e abbiamo avuto anche dei licesi. Quest'anno la cosa è molto più tranquilla e questo ci fa molto piacere, spero, non so se è dovuto ai vaccini, spero che questa campagna vaccinale ci abbia aiutato a uscire dalla pandemia. Dopo oltre un anno e mezzo possiamo anche tirare un bilancio su come siano cambiate non solo le abitudini delle persone ma anche il modo di lavorare a causa di questa pandemia, mi riferisco ai vari device online, le riunioni online. Per voi del comune, per voi amministratori la cosa si è semplificata o ha creato danni? Devo dire che all'inizio è stato un sistema nuovo, molto difficile da affrontare, nel senso che sembrava che desse un distanziamento sociale importante, invece ad oggi ci sta aiutando anche ad avvicinare le distanze, nel senso che prima dovevamo riunirci tutti insieme, invece adesso con una videoconferenza si riesce a risolvere i problemi in maniera molto più veloce, molto più snella, permolestando che comunque, a parere mio, è comunque importante il confronto diretto perché va bene da un punto di vista formale quando devi assolvere a degli obblighi che non hai la possibilità di incontrarti, va bene la videoconferenza, però il confronto diretto tra le persone, lo scambio di opinioni, secondo me è molto più importante, è molto più genuino, è più snello quando l'incontro è di persone, insomma, in presenza. Ci troviamo in piazza davanti a un municipio, vediamo anche dei camion che vanno avanti e indietro, cambiamo dunque argomento, parliamo degli interventi che sta operando il comune per quanto riguarda il dissesto idrogeologico e l'accesso dalla Valvisdende, insomma, ci può parlare di questo? Sì, allora, stiamo facendo alcuni interventi sempre in conseguenza dei finanziamenti del famoso VAIA, alcuni li abbiamo appaltati nella Valvisdende che in collaborazione anche col comune di Santo Stefano di Cadore stiamo cercando di dare una migliore viabilità alla zona di accesso della Valvisdende, i lavori stanno procedendo in maniera spedita e si conta di finire entro la primavera prossima. Stiamo facendo anche altri lavori sempre con i fondi VAIA a margine dei centri abitati in modo di poter riuscire a preservare futuri e, come si diceva, per una maggiore resilienza del territorio, riuscire a fare quelle opere che ci servono per consolidare i versanti a monte dei fabbricati o comunque in zone che potrebbero avere alcuni dissesti idrogeologici. Oltre a questo abbiamo tramite dei finanziamenti ricevuti dalla provincia di Belluno, abbiamo provveduto a fare delle sistemazioni alla viabilità interna alle frazioni, sistemando quei tratti di via che erano ormai in condizioni precarie che comunque creavano anche dei problemi alla viabilità interna, rifacendo pavimentazioni, facendo qualche barriera e quello che serve comunque per mantenere il territorio in ordine e insomma anche con un certo decoro e una certa fruibilità. E c'è anche un ragionamento che riguarda la scuola? Sì, anche sulla scuola stiamo facendo un intervento di riqualificazione energetica isolando tutto l'involucro della scuola, del plesso di via Dante, dove noi abbiamo all'interno sia la materna che la scuola di primo grado che la scuola del secondo grado e stiamo riqualificando l'involucro, installando un cappotto termico e la sostituzione di alcuni serramenti per poter dare un maggiore comfort agli alunni che frequentano la scuola. In futuro abbiamo, nel futuro imminente, insomma, comunque si conta di farlo già il prossimo anno, di riuscire anche a sostituire i generatori di calore che ormai sono adattati e tramite le aree interne realizzare la mensa delle scuole in modo di avere un fabbricato scolastico completo definitivamente che sia comunque che abbia una performante sia da un punto di vista di fruibilità che di comfort. Per quanto riguarda l'affluenza alle scuole, com'è la situazione riguardo anche allo spopolamento? Ci sono i giovani in questi paesi? Ovviamente siamo una, purtroppo, siamo una zona di montagna e anche noi subiamo un po' lo spopolamento della montagna. Vedo che comunque ci sono molte giovani coppie che si uniscono e che comunque hanno, sono dei nuovi nati, ne ho uno anch'io in famiglia, ho una nipotina nuova da una settimana e quindi questo non può che farci gioire che comunque la gente e i giovani continuano a rimanere sul territorio e creare la famiglia per combattere un po' questo spopolamento che sembra inesorabile. Cerchiamo comunque chi è affezionato e chi comunque ha voglia di impegnarsi e vivere sul territorio e creare economia e ricreare le possibilità anche nel piccolo di poter riuscire a rimanere sulle nostre zone. Tornando ai lavori pubblici, c'è un progetto che riguarda l'illuminazione cittadina? Sì, anche lì con un finanziamento ministeriale abbiamo adesso, in questi giorni, stiamo andando ad affidare ai lavori l'ultima tranche di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica sostituendo tutta l'illuminazione pubblica con delle lampade a led che sono la nuova generazione e che sono quelle che ci permetteranno di avere un risparmio sul costo della bolletta, come si dice e liberando anche se poche risorse che per noi sono molto importanti per riuscire, non dico a fare tanti lavori ma per quei pochi soldi che riusciremo a risparmiare di fare delle manutenzioni adeguate al nostro territorio per renderlo comunque appetibile e vivibile. Per quanto riguarda il discorso che accennavamo prima allo spopolamento e l'abbandono delle terre soprattutto quelle alte si sente di collaborare effettivamente con le amministrazioni che le stanno vicine? Devo dire che comunque io sono stato eletto due anni e mezzo fa circa e da quando sono stato eletto ho sempre avuto un buon rapporto con tutti gli altri colleghi della vallata che sinceramente essendo il Comelico una vallata più o meno omogenea abbiamo, anche tranne l'Unione Montana siamo sempre stati molto sinergici sia sulle iniziative che bene o male sono comprensoriali e non posso dire che trovo collaborazione anche dalla parte degli altri sindaci della Val Comelico. Facciamo un ultimo accenno al futuro alla stagione invernale che sta per arrivare Covid a parte quali sono le aspettative? Speriamo meglio di quelle dell'anno scorso visto che eravamo blindati in casa noi qui abbiamo da un punto di vista di stagione invernale non è come quella estiva perché siamo più vocati al turismo estivo ad eccezione del Polo di Padola che comunque è molto legato allo sci invernale e speriamo nell'affluenza insomma avevamo Sapada ma poi Sapada adesso è passato in Friuli siamo sempre comunque vicini a loro anche perché il confine è spostato ma Sapada è sempre lì abbiamo sempre molti buoni rapporti con i cittadini di Sapada quindi spero sia una buona stagione invernale sicuramente non può essere peggiore di quella dell'anno scorso. Grazie Sindaco siamo giunti al termine della nostra intervista grazie ancora per averci ospitato grazie a voi di essere venuti grazie a voi tutti per averci seguito arrivederci alla prossima tappa grazie a voi